Ciao, sono Alessandro e sono da Oscolati R&D Team. La nuova strada Easy-Up da Oscolati è scelta per incontrare le necessità dei bambini. È un prodotto sicuro e conveniente, facile da usare e installare. Abbiamo scelto una ladda compacta telescopica, con un blocco in blocco. Con questo concetto, puoi abbonare facilmente la ladda con solo una sola accione, e i blocchi restano nella migliore posizionale. Questi blocchi sono un'accesso facile alla acqua, perché sono sicuri e comforzati. Quando hai bisogno di portare il bambino, puoi prendere i blocchi, sull'acqua, sicuramente e con meno esforza. L'ultimo, ma non l'interno, quando sei tornato sull'acqua, non hai bisogno di rimanere sull'acqua per ritrovare la ladda. Hai solo di prendere i blocchi, e portare la ladda nella piattaforma di bambino. Questa linea, conveniente e effettiva soluzione, è patent pending. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.